Avevamo attivato, come voi sapete, navi cisterna, una nave militare, diverse autobotti per la fornitura nei quartieri che non potevano essere riforniti attraverso la rete acquedottistica. La situazione oggi si è aggravata con questa interruzione del bypass dall'Alcantara. Ci troviamo a questo punto di fronte a una situazione molto difficile, riteniamo intollerabile per i cittadini di Messina che richiede una svolta in tempi rapidi. Non sarà una svolta facile. Quella rete acquedottistica sia nella città sia nelle infrastrutture di adduzione risente di una arretratezza, di una scarsità di investimenti che si trascina da anni, basti pensare che Messina è servita solo da una infrastruttura di adduzione, quindi quando quella si interrompe, si interrompe la fornitura di acqua alla città. questa situazione richiede un intervento profondo. Ci ha indotto tutto ciò a dichiarare lo stato di emergenza, la protezione civile nazionale interverrà in forze, mobiliterà ulteriormente la protezione civile regionale e tutti i tecnici che sono dell'area, che sono in grado di collaborare alla soluzione.